Registi in fondo al cuore, questo è un gran momento, questo è un momento raro Benvenuti alle fave del Kilimanjaro Benvenuti alle fave del Kilimanjaro Allora Sandra, chi hai portato quest'oggi qui nella platea del Kilimanjaro? Abbiamo il sud, viaggio in Australia con Paolo Bezzi e Matteo Barsotti Montepio Mila e Reggio Emilia E poi abbiamo il viaggio del nord con Davide Simoni e Federica Fabris da Verona E il viaggio in Lapponia Grazie Sandra Allora, due coppie di viaggiatori Nel vostro caso Australia, però un'Australia privilegiata possiamo dire così Sì, perché siete andati ospiti di una persona, non hanno il microfono, siete andati ospiti di una persona italiana che vive in Australia Quindi vi dovrebbe aver fatto conoscere l'Australia più vera Quanti eravate? Eravamo noi due, i miei genitori, sua moglie Quindi un gruppetto di cinque, di quanti? Cinque, sette Sette, sette E quanto tempo siete stati? Tre settimane loro e io un mese Ah, tutti sei... Quattro settimane in più Bravo, mi sembra che invece nel vostro caso siete andati in Lapponia Se no siamo di parte E siete andati in un paesino Quanti abitanti c'erano? Ottantacinque abitanti Ottantacinque abitanti, cioè direi che conto Ottantacinque anime all'estremo nord, quindi i Sami stiamo parlando Lui abbiamo il nostro Valentino che sta già lavorando per disegnare il viaggiatore tipo del Kilimanjaro Però adesso partiamo subito e vediamo i reportaggi Mi sembra che il pubblico abbia votato Possiamo fare entrare la nostra Sandra E poi vedremo anche il nostro designer ormai Vignettista Vignettista E se no si offende, lo chiamo designer, si offende Il nostro vignettista Valentino Stai pronto con i disegni? Entri Sandra con il risponso Sandra, la nostra compagna di viaggio, legge che cosa ha scelto il pubblico nello studio Apri la busta, Sandra Si Vince Australia per 45 Mamma mia Per voi la coppa ragazzi, complimenti per la vostra partecipazione E per tutti e due, visto che amate il freddo, la super giacca del Kilimanjaro Anche per voi, perché l'importante è partecipare Valentino ci raggiunge nel frattempo con le vignette dei nostri viaggiatori Questo è quello che ha vinto Si ma fai vedere quella che ha vinto Questa è in Australia Ci abbiamo il canguro, ovviamente, simbolo dell'Australia E poi tutti gli elementi che compongono Tutti non possono essere Alcuni diciamo Alcuni sono I mezzi, il tandem Il camper, il treno, la moto E un viaggio Vediamo anche l'altro, velocemente Questi sareste voi, in questo caso la tigre È una tigre siberiana Riusciamo a stringere Oh, vedi, non l'ho neanche Tutti bravi siamo, eh Guardate che bello Complimenti allo studio del Kilimanjaro Lo studio 5 della Dear Grazie Valentino E adesso Kilimanjaro Band